Riapre il calciomercato per tutti i campionati professionistici in Italia e per quanto riguarda il Cesena ovviamente la questione passa in secondo piano, visto che l'attenzione e tutti gli sforzi sono proiettati sulla sopravvivenza del club. In tal direzione però dopo l'addio del preparatore dei portieri Riccardo Ragnacci diretto a Verona e annunciato solo il 29 maggio scorso, tocca anche a Fabrizio Castori ritornare sul mercato e libero da ogni vincolo. Il tecnico marchigiano, a seguito della strabiliante salvezza raggiunta in Serie B pochi mesi fa, era stato confermato lo scorso 26 maggio per le prossime due stagioni in bianco-nero, ma vista la situazione delicatissima che vede il cavalluccio sull'oro del precipizio del fallimento, il contratto firmato non era stato depositato in via precauzionale. Una scelta pare condivisa sia dal club di Corso Sozzi, sia dal tecnico di Tolentino che ha raccolto 10 vittorie e 16 pari e 9 sconfitte che compongono le 35 presenze dal suo arrivo datato 1 ottobre 2017. Saluto nel Cesena anche l'ex capitano di Mille Battaglie ed ora vice Riccardo Bocchini, Tommaso Marolda collaboratore tecnico, Marco Castori figlio del tecnico addetto alle analisi video.